BUMBA! BUMBA UN SALUTO! Sta focus, sta focus! Sto organizzato, sto concentratissimo in questo momento. Vedrai che si mena. Alfredo è andato lì alla Totti e iniziato a tirare calci a caso. Guarda lì Alfredo! Alfredo fatti valere! Non si può, adesso arriva lui. E' così finito. Ciao! Ve la parola di nuovo. Lo toccate il pupillo? E' bubba faccio, quando fai la curva noi. 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 Grazie